L'Aquila riscatta la sconfitta di Coppa Italia battendo per 5-1 il Sulmona. In totale sono 10 gol messi a segno dalla band di Epifani e i Sulmonesi se si considera anche la gara d'andata al Pallozzi che finì 0-5. Visto il pareggio del Giulianova e la sconfitta dell'Angolana, la formazione rosso-blu è ora a più 6 dai Giuliesi e a più 8 dai Nerazzurri. Quanto alla partita, sempre 4-2-3-1 per l'Aquila, Mantini a centrocampo al posto di Diarrà. La scelta di far giocare l'Aquilano si rivelerà azzeccatissima. In avanti Massetti, Carbonelli e Sarrizzo dietro all'unica punta Shiba. Mecomono corrisponde con il 4-3-2-1 con Pelino e Di Giannantonio dietro a Blanco. L'inizio di partita è terrificante per gli ospiti che dopo soli 4 minuti sono sotto di due gol. Al secondo infatti l'Aquila sblocca il match, Mantini è perfetto a servire dalla sinistra a Sarrizzo. Il cross basso dell'esterno sardo è un cioccolatino per Shiba che facile facile la butta dentro. Al quarto arriva il raddoppio dei rosso-blu. Ancora Sarrizzo, cross in aria, la palla arriva a Carbonelli. Il trequartista romano scarica il pallone a Massetti con il suo destro che si insacca. L'angolino a basso, al ventottesimo arriva il 3-0 dell'Aquila. Angolo di Massetti, Mantini salta più in alto di tutti e incorna in rete. Al trentadresimo tuttavia arriva il gol del Sulmona. Mascolo sbaglia in fase di impostazione e serve i seni. L'ex Lanciano appoggia per Blanco che a porta sguarnita non ha problemi a segnare. Il momento è positivo per i Peligni che dopo poco hanno un'altra grande occasione. Al trentasettesimo Lombardo crossa in mezzo, Pelino in mezza girata. Non inquadra il bersaglio. Trentanovesimo, grossa opportunità per Corticchia che solo in aria sbaglia clamorosamente. Al quarantacinquesimo i rosso-blu protestano per la non concessione di un calcio di rigore dopo la caduta in aria di Massetti a seguito di un contatto con Falce. Nella ripresa al terzo arriva il poker della compagine locale. Gran discesa dalla sinistra di Tavoni che pennella in aria. Sciba anticipa la difesa avversaria e segna la sua doppietta personale. I rosso-blu riescono ad amministrare l'ampio passivo. Al trentaseesimo arriva la manita Alessandro Pesca di Norcia. L'Aquilano con un tocco morbido entra a far parte della sagra del gol. Una vittoria così ha un chiaro significato. L'Aquila, Coppa o non Coppa, comanda l'eccellenza e vuole chiudere i giochi il prima possibile. La prestazione del Sulmona non è piaciuta né ai tifosi né a Meco Monaco. In questa settimana servirà riflettere per capire cosa non va.